Aumenta il costo dei cereali, ricaduta sul prezzo del pane ad aggrigento, allarme di conficommercio e Assipan, report del videogiornale tra i panifici. Il senatore Marcello Dell'Utri sarebbe pronto a traslocare dalla Sicilia alla Repubblica Dominicana. Forse già in tasca il passaporto, acquistata anche una villa ai Caraibi. Dopo il primo a giugno adesso un altro stop alla Cassa Integrazione, esauriti i fondi della regione, blocco degli ammortizzatori in attesa dei trasferimenti statali. L'emergenza rifiuti nell'agrigentino da Gesa a Dedolambiente. I sindacati proclamano due giornate di sciopero dei netturbini, i prossimi lunedì e martedì. Domani è sabato ad agrigento, al Filippini il secondo convegno sulle malattie endocrine. I medici Randazzo, Russo e Galluzzo al microfono delle VG lanciano l'evento. Bentornati al videogiornale di Teleacras, ancora buon pomeriggio a tutti. Aumenta il costo dei cereali ricaduta sul prezzo del pane ad agrigento, allarme di Confcommercio e Assipan. Report del videogiornale tra i panifici, Carmelo Lazzaro. Tra i continui vari aumenti mettete in conto anche il prezzo del pane. Ad agrigento non è ancora praticato ma presto potrebbe concretizzarsi. È quanto sostengono Assipan, l'associazione dei panificatori e Confcommercio che evidenziano una situazione sempre più insostenibile per gli operatori del settore, gravati dai continui rincari delle materie prime. Nelle ultime settimane rialzo improvviso delle quotazioni dei cereali, con inevitabili ricadute sul prezzo del grano e dei prodotti derivati come la farina. Ad agrigento panificatori alle prese con sempre maggiori difficoltà di gestione, tra costo delle materie prime e del personale. In questi giorni si discute l'eventuale aumento del prezzo del pane, che dagli attuali 2,40 euro al chilo potrebbe lievitare a 2,80 centesimi, salvo eccezioni perché alcuni panificatori non esitano a praticare sconti anche fino ad un euro per mantenere le vendite. Ormai è diventato quasi impossibile perché oltre all'aumento di gestione, dell'energia elettrica, delle materie prime, c'è l'aumento della farina, dello strutto, del sesamo, ormai è diventato quasi insostenibile. Quanto si aggira oggi il costo medio delle materie prime? La farina è salita intorno a 50 centesimi al chilo, il sesamo da 1,55 euro al chilo è passato a 2 euro, lo strutto è aumentato, la corrente elettrica è aumentata, poi gli metti le accise, gli metti un po' le tasse, è diventato impossibile ormai. Anche noi sicuramente abbiamo subito l'effetto di questa crisi perché la pressione fiscale in questo momento è notevole, per cui per un'azienda che cerca di mantenersi in regola con le norme vigenti diventa tutto molto più complicato in questo periodo. Quante persone lavorano nella sua azienda, nel suo panificio? Nella mia azienda lavorano 6 persone per cui anche la pressione fiscale è un aspetto da non sottovalutare perché diventa anche quello che va a ricadere comunque sul costo del pane perché per produrre bisogna naturalmente sostenere dei costi che oggi sono veramente insostenibili. Un quadro complessivo di problematiche che rischia di mettere in ginocchio il settore della panificazione è che il presidente provinciale di Assipan, Confcommercio Aggregento, Giacomo Zimbardo, ha prospettato in una lettera al prefetto Francesca Ferrandino e dal presidente della Camera di Commercio Vittorio Messina. I panificatori, sostiene Zimbardo, coscienti dell'attuale crisi economica e delle difficoltà che le famiglie stanno vivendo in questo momento, si stanno sforzando di contenere i prezzi dei loro prodotti, ma in mancanza di rimedi potrebbe diventare inevitabile. Per Zimbardo un aiuto concreto dovrebbe darlo il governo con la riduzione dell'imposizione fiscale e delle accise sui carburanti, consentendo una diminuzione dei costi di produzione a vantaggio delle famiglie. Quale potrebbe essere la soluzione? Io credo che sia anche opportuno che ci sia un organo di controllo per calmirare un po' questi prezzi alla fonte, dove secondo me è il vero problema. Potrebbe davvero aumentare il prezzo del pane anche ad aggregento? A questo punto credo proprio di sì, perché gli aumenti sono incontrollati e la pressione fiscale, come tutti già sanno, è aumentata, per cui diventa realmente insostenibile produrre a prezzi così bassi. La querelle in corso al comune di aggregento tra il sindaco Marco Zambutto ed il patto per il territorio di Riccardo Gallo e Piero Macedonio. In proposito, oggi interviene il segretario cittadino di aggregento del partito del sindaco l'Udc, Pietro Vitellaro, che afferma l'Udc rifugge da ogni forma di critica politica, polemica, sterile e non costruttiva. Nel merito politico rileviamo che il patto per il territorio ha compiuto la scelta di sostenere un candidato alla presidenza della regione alternativo al candidato dell'Udc. Dunque il patto per il territorio non può essere un nostro alleato al comune di aggregento. Viviamo un clima politico molto difficile, molto confuso e mostrare chiarezza, determinazione e coerenza rappresenta un punto di partenza fondamentale per migliorare il percorso di cambiamento intrapreso. Andiamo avanti, chiudendo questa polemica e continuando ad occuparci della città, ribadendo massimo sostegno al sindaco Marco Zambutto, conclude Pietro Vitellaro. Ed il comune di aggregento si è dotato del regolamento per la disciplina dell'IMO, l'imposta municipale propria. Il regolamento approvato all'onimità dal Consiglio comprende tra l'altro anche delle agevolazioni per i residenti all'estero iscritti nell'apposita anagrafe e per coloro che avviano delle attività commerciali o imprenditoriali in un immobile nel centro storico. Inoltre si procederà a rateizzazioni per i cittadini che versano in condizioni di particolare disagio economico. Prossima seduta del Consiglio Comunale il prossimo 25 settembre. Sul sito internet del comune di aggregento è pubblicato il resoconto dettagliato della riunione consigliare. Il senatore Marcello Dell'Utri sarebbe pronto a traslocare dalla Sicilia alla Repubblica Dominicana. Forse già in tasca il passaporto, acquistata anche una villa ai Caraibi. Il servizio di Angelo Ruoppolo. Ecco sulla cartina geografica tratteggiata in rosso la Repubblica Dominicana, America centrale, capitale Santo Domingo. Ecco l'isola tra nord e sud del continente americano sull'oceano Atlantico. Ecco Cuba, poi Haiti e poi la Repubblica Dominicana. Ed ecco adesso un dettaglio, una spiaggia di Santo Domingo, il mare dei Caraibi. Marcello Dell'Utri è nato a Palermo l'11 settembre del 1941. E adesso, oltre che siciliano, sarebbe dominicano, cittadino di Santo Domingo. Così scrive l'Espresso e così rilancia l'agenzia ANSA. Nel paradiso caraibico, il senatore Dell'Utri avrebbe acquistato una splendida villa. Qui, alla Romana, la terza città dell'isola, 200.000 abitanti, a 130 chilometri dalla capitale Santo Domingo. Il passaporto dominicano sarebbe già nella tasca del senatore del Popolo della Libertà. E lui sarebbe pronto a traslocare dalla Sicilia. Entro fine anno è attesa la sentenza della Corte d'Appello di Palermo. Dopo l'annullamento con rinvio in Cassazione della condanna, sette anni di carcere, che gli è stata inflitta per concorso esterno alla mafia da un'altra Corte d'Appello di Palermo il 30 giugno del 2009. Marcello Dell'Utri avrebbe già trasferito alla Romana una parte della sua preziosa collezione di libri antichi. E i viaggi della famiglia, oltre Oceano, sarebbero sempre più ricorrenti. Anche perché il senatore sarebbe impegnato in affari economici nel centro America. Lo scorso 8 marzo, il giorno prima della sentenza della Cassazione, Silvio Berlusconi avrebbe pagato 21 milioni di euro per l'acquisto della villa sul lago di Como di Marcello Dell'Utri. Una lussuosa residenza. 14 dei 21 milioni hanno viaggiato verso la Repubblica Dominicana, atterrando su un conto a Santo Domingo. Si tratta di un deposito intestato alla moglie di Dell'Utri, Miranda Anna Ratti, a messo indagata per riciclaggio aggravato dalla procura di Palermo. La Polizia Stradale di Agrigento, agli ordini di Calogero-La Porta, ha intensificato i controlli nell'ambito di una campagna sicurezza di prevenzione e sensibilizzazione. Nel corso degli ultimi 5 giorni, 40 moto e scooter sono stati sottoposti a fermo amministrativo perché condotti da centauri senza casco o con casco a scodella. I pattogliamenti sono stati concentrati nei pressi di scuole, luoghi di divertimento, spiagge e località turistiche. Il fermo amministrativo del mezzo si protrae per 90 giorni e la multa è compresa tra i 74 e i 300 euro, secondo i casi. I caschi sono confiscati. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Sciacca hanno denunciato un agricoltore di 43 anni di Alessandria della Rocca sorpreso ad un posto di controllo lungo la strada provinciale 37 in possesso di un coltello di genere vietato. Risponderà di detenzione e porto illegale di coltello. Alla questura di Agrigento il questore Giuseppe Bisogno ha firmato un foglio di via obbligatorio poi notificato dai poliziotti a carico di due coniugi di 24 e 26 anni pluripregiudicati componenti di una comunità di nomadi che dimora da tempo a Castrofilippo in provincia di Agrigento. I due sono stati sorpresi a suonare il campanello di palazzine e villini lungo il viale dei Pini a San Leone. Forse l'uomo e la donna hanno bussato alle abitazioni per riscontrare la presenza o meno di persone in casa e valutare così se compiere un furto oppure no. Non rientreranno ad Agrigento per i prossimi tre anni. Dopo il primo a giugno adesso un altro stop alla Cassa Integrazione in Sicilia. Esauriti i fondi della regione, blocchi degli ammortizzatori sociali in attesa ai trasferimenti statali. Il servizio vediamo. La regione ha sospeso il pagamento della Cassa Integrazione in Sicilia. In attesa di trovare i soldi necessari a coprire il fabbisogno per tutti i lavoratori usciti dall'azienda in crisi e dagli enti di formazione professionale, l'assessorato al lavoro ha comunicato che non saranno accettate nuove richieste e che chi già riceve gli ammortizzatori sociali non potrà avere proroghe. Il sistema è fermo dal lunedì scorso. Gli uffici provinciali del lavoro hanno informato i sindacati che hanno subito annunciato la protesta in tutta la Sicilia. La sospensione ha due effetti. Le aziende che d'ora in poi entrano in crisi non possono contare sulla Cassa Integrazione. Fino a quando non saranno reperiti altri soldi, i lavoratori non percepiranno assegno per il periodo in cui resteranno disoccupati. Si fermano anche Cassa Integrazione in deroga e mobilità. La Regione non ha ancora sbloccato la trattativa a Roma per avere più fondi. Un nuovo incontro con i tecnici del Ministro Fornero è previsto entro una settimana e a quell'appuntamento la Regione dovrà presentarsi con numeri certi sui lavoratori che godono e godranno degli ammortizzatori sociali e sulle somme necessarie fino a fine anno. La dirigente dell'assessorato Anna Rosa Corsello afferma Abbiamo chiesto di sospendere nuove emissioni perché stiamo facendo un monitoraggio della situazione. Quando avremo dati certi chiederemo a Roma i nuovi finanziamenti. Sono giorni decisivi. In realtà, secondo i dati già in possesso della Guil, i numeri sono da record e lascerebbero temere che non tutto possa essere coperto da qui a fine anno. A giugno la Regione aveva già sospeso il pagamento della Cassa Integrazione anche per i lavoratori già immessi nel sistema. Il budget stanziato a gennaio, 26 milioni per la maggior parte messi a disposizione dallo Stato, non solo era già esaurito ma gli assegni anticipati dall'Inps e i lavoratori delle aziende in crisi avevano già sfondato il tetto dei 60 milioni. E almeno altrettanti, calcolavano i tecnici dell'assessorato, ne servivano per arrivare a fine anno. Poi è arrivata una boccata d'ossigeno da Roma e l'Inps è tornata ad anticipare le somme. Ora il nuovo stop in attesa del nuovo assegno dello Stato di cui non si conosce il valore. Se si votasse oggi in Sicilia, oltre 2 milioni di persone, quindi il 43% degli elettori, non si recrebbe alle urne, non voterebbe. Così emerge da un sondaggio Demopolis, secondo cui è in riduzione anche la fiducia dei siciliani nella politica che è appena all'11%, quando invece nel 2009 è stata al 23%. Così è anche per i partiti con fiducia dal 16% al 5%. Infine, secondo i rilievi compiuti la scorsa settimana, su 1.400 cittadini il 57% dei siciliani sceglierà un candidato a prescindere dal partito, il 30% un partito a prescindere dal candidato, mentre il 13% ha risposto che ancora non ha deciso. A Porto Empedro, l'area intorno alla Torre di Carlo V, dove sono state rimosse alcune costruzioni fatiscenti, riacquista gli antichi splendori valorizzando il sito storico della cittadina marinara. Infatti è stato firmato il contratto con l'impresa per l'esecuzione delle opere di sistemazione delle aree adiacenti la Torre per un importo di 250.000 euro, finanziati dall'assessorato regionale del turismo. I lavori della durata di 120 giorni, a decorre dalla imminente consegna, serviranno a riqualificare lo spazio pubblico antistantra Torre senza pregiudicare i caratteri tipologici del luogo. Il sindaco Calogero Firetto afferma che si tratta di una operazione di recupero della memoria storica, proiettando sempre più nel futuro la nostra città. A Palermo, presso la segreteria regionale del Popolo della Libertà, il commissario provinciale di Palermo, Simona Vicari, e i coordinatori regionali Giuseppe Castiglione, Domenico Nania e Dore Misuraca, hanno presentato il codice etico contenuto nel programma proposto ai siciliani dal candidato alla presidenza della regione Nello Musumeci. In proposito interviene l'europarlamentare Salvatore Iacolino, che afferma l'adozione del codice etico e la previsione di specifici doveri di lealtà, trasparenza e onestà per accedere al consenso dentro le liste del PDL, alla prossima competizione elettorale, rappresentano la giusta e doverosa garanzia per i cittadini onesti per avere in assemblea regionale eletti con requisiti di moralità e pertando al di sopra di ogni sospetto. Dunque un atto di responsabilità del PDL per arginare candidature inadeguate sotto tale essenziale profilo e riportare la Sicilia verso un auspicato percorso concreto di legalità con una classe politica onesta, responsabile e coerente. E adesso nel riferimento alle priorità del governo regionale, il prossimo governo regionale, ascoltiamo lo stesso Salvatore Iacolino in questa intervista. Stamani incontro con il Presidente della Commissione Industria, Elias Ortori, sulla questione Fiat, una questione che riguarda l'Italia dopo aver riguardato concretamente la Sicilia. Non è possibile che la Fiat riceva provvidenze a parte dell'Unione Europea dopo averle ricevute da parte dello Stato italiano e delocalizzi tutti gli investimenti produttivi altrove, nei cosiddetti paesi terzi. Noi abbiamo bisogno di mettere in cima le liste delle priorità del governo nazionale, soprattutto di quello regionale, tenuto conto che si voterà a ottobre il lavoro e i giovani. L'occupazione che passa attraverso le infrastrutture, passa attraverso una maggiore solidarietà e una maggiore responsabilità dell'Unione Europea nei confronti dell'Italia, ma passa soprattutto a quella sana imprenditoria che ha bisogno di trovare un aggancio in Europa. Per questo il governo dovrà essere responsabile e autorevole. Noi siamo a favore di liste polite, siamo a favore di persone presentabili e proponibili. Siamo contrari rispetto a quelle continuità generazionali che passano dal governatore, come sarebbe per accadere Lombardo e il proprio figlio che si candida nelle file dell'MPA. Siamo invece dell'avviso che un rinnovo della classe politica passe attraverso giovani che abbiano la possibilità di intraprendere questo percorso autonomo per meriti e per propri talenti che vorranno sviluppare al servizio della regione siciliana e poi perché no al servizio del paese. Il capogruppo al Consiglio Comunale di Agrigento del Partito dei Siciliani MPA, Alfonso Vassallo, ha presentato un atto di indirizzo affinché si rimedia alle carenze di trasporto urbani a favore degli studenti della frazione di Giardina Gallotti. Vassallo dichiara che occorre inserire all'ordine del giorno del Consiglio Comunale il ripristino della tratta urbana da parte della tua che parte da Agrigento verso Giardina Gallotti alle ore 14.20. L'assenza di questo collegamento urbano causano pochi disagi agli studenti che a quell'orario escono dalle scuole e sono costretti ad aspettare il bus successivo arrivando così tardi a casa e non potendo svolgere in maniera tranquilla le loro attività di studio, conclude il Consigliere Comunale Alfonso Vassallo. L'Egambiente Agrigento esprime delle riserve sulla recente nomina ad Assessore Comunale di Agrigento del già Consigliere Michele Mallia in proposito interviene il dirigente dell'Associazione Ambientalista Daniele Gucciarto che ascoltiamo. L'Egambiente ritiene la nomina ad Assessore del Consigliere Comunale Michele Mallia un grave errore commesso dal Sindaco Zambuto. Il nome di Michele Mallia si lega al fatto che lui è un leader di fatto degli abitanti delle case abusive all'interno della zona della Valle dei Templi, quindi il suo nome non fa veicolare il messaggio che Agrigento sia la città della Valle dei Templi ma piuttosto fa veicolare il messaggio che Agrigento sia ancora la città dell'abusivismo nella Valle dei Templi. E questo non va bene soprattutto per la nostra economia, noi dobbiamo puntare ad avere amministratori che riescono a intrattenere rapporti ad alto livello per consentire che la Valle dei Templi diventi un volano economico della nostra città e certamente nomine fatte casualmente o fatte semplicemente perché vengono suggerite dai partiti e non vanno bene, ma soprattutto non vanno bene le nomine di Assessori che vengono nominati per ritorsioni o per giochetti politici che si consumano all'interno delle stanze dei partiti o dei movimenti che hanno appoggiato Zambuto nell'ultima campagna elettorale. Quindi speriamo che Zambuto ritorni sui propri passi e revochi la delega ad Assessore a Michele Mallia. Bisogna soprattutto pensare che con una nomina del genere Zambuto fa ritornare indietro di vent'anni la nostra città invece di portarla a vincere le sfide che il futuro ci riserva e con questa nomina secondo noi la città è stata penalizzata. Mancati i pagamenti e ritardi dalla pubblica amministrazione e crisi delle imprese impegnate nel settore edile. In proposito interviene il segretario provinciale di Agrigento del Lance, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili Giuseppe Sutterasardo che afferma condividiamo l'allarme già lanciato dal presidente del Lance Sicilia Salvo Ferlito e di Confindustria Sicilia Antonello Montante sui mancati pagamenti della pubblica amministrazione alle imprese edili per lavori compiuti o in corso d'opera. Complessivamente si tratta di crediti per circa un miliardo e 500 milioni di euro che soffocano il settore, l'indotto e l'occupazione. L'istituzione proposta pongono tra gli obiettivi primari il ripienamento dei debiti per lanciare un settore trainante per la provincia di Agrigento e attualmente al collasso. Ad Agrigento in Via Atenea al Palazzo Filippini presso la Sala Giambecchina domani venerdì 21 settembre, poi sabato 22 in programma un convegno sul tema le endocrinopatie, aspetti fisiopatologici e terapia promosso dagli endocrinologi e diabetologi agrigentini con il patrocinio dell'azienda sanitaria e l'ordine dei medici della provincia di Agrigento. L'organizzazione è a cura di Omnia Congress Agrigento. Al secondo convegno sulle malattie endocrine sono attesi oltre 200 tra medici, infermieri e biologi e 30 relatori siciliani. Al microfono di Carmelo Lazzaro, nell'ordine d'apparizione, ascoltiamo il diabetologo dell'azienda di Agrigento Carlo Randazzo, il responsabile scientifico e presidente del comitato organizzativo del convegno l'endocrinologo Leonardo Russo ed il diabetologo Giovanni Galluzzo. Qual è la valenza medico-scientifica di questo convegno, di questo secondo appuntamento? Gli endocrinologi e i diabetologi agrigentini hanno voluto con questo nostro incontro che coinvolgerà medici specialisti, medici di base, ospedalieri e quanti si occupano di queste problematiche porre l'attenzione su alcune condizioni di sanità pubblica che insistono come malattia sociale tipo il diabete oppure le tiriopatie per sottolinearne l'importanza, l'impatto appunto nella nostra popolazione e soprattutto cercare di condividere dei percorsi diagnostici e terapeutici che possano rendere la qualità dell'assistenza oggi nella nostra provincia quanto più efficace e condivisa. Condivisa significa soprattutto coinvolgere la medicina di base, la specialistica, il comparto ospedaliero al fine di porre al centro, ecco questo è molto importante secondo me, il cittadino utente che avverte queste problematiche. Il convegno è diviso in due sessioni, coinvolgete numerosi esperti siciliani? Sì, il convegno prevede effettivamente due giornate, la prima che si svolgerà domani e che sarà ampiamente dedicata alla malattia diabetica e che effettivamente approfondirà le problematiche relative sia alla malattia diabetica che alle problematiche associate alla malattia diabetica ed è proprio per questo che noi daremo spazio anche a quelle che sono le problematiche ginecologiche, le problematiche pediatriche associate al diabete nonché quelle cardiovascolari, estremamente importanti e quindi di grande impatto anche sociale. Proprio per questo infatti ci saranno presenti diversi anche relatori degli Atenei Palermitano e Catanese che daranno manforte al nostro operato e che quindi daranno anche lustro all'attività scientifica. Quanto è importante il confronto, l'approfondimento medico-scientifico per una crescita complessiva? Penso che sia estremamente importante. Nel nostro territorio il nostro gruppo di endocrinologi e diabetologi si sta effettivamente sforzando per creare un percorso comune dove sia dal punto di vista diabetologico che dal punto di vista endocrinologico si deve effettivamente lavorare in sinergia, si deve lavorare insieme per cercare di creare un percorso credibile e un percorso che dia la possibilità alle persone di poter pensare che anche nel territorio agrigendino si possa fare diagnosi, si possa fare terapia e si possa fare qualcosa di serio per quanto riguarda la malattia diabetica e le malattie endocrine in generale. Il convegno è voluto proprio da questo gruppo di medici endocrinologi e diabetologi che coinvolge sia gli specialisti ambulatoriali del territorio che anche gli ospedalieri in modo da appunto mettere a disposizione della classe medica in genere delle competenze che possano migliorare l'ambito formativo e dare così una migliore risposta in termini di qualità assistenziale. Sergio Calì, percussionista classico agrigentino, studente del Conservatorio di Palermo è stato invitato a suonare a Strasburgo in occasione di uno spettacolo da solista che si è svolto lo scorso 18 settembre intitolato Suono Italiano. Eccolo qui in questa fotografia Sergio Calì. La performance ha riscosso ampio successo. A Sergio Calì sono stati richiesti numerosi bis e il giovane musicista agrigentino non ha esitato a concederli. Sergio Calì si è già esibito nell'ambito di festival e stagioni concertistiche anche negli Stati Uniti, Germania e Brasile con l'orchestra del Conservatorio Bellini di Palermo e del Conservatorio Scontrino di Trapani. Nel 2012 ha ottenuto la menzione speciale al premio nazionale delle arti sezione strumenti a percussione e solisti ed ha vinto il premio Maria Elisa di Fatta sezione giovani talenti. Siamo giunti allo sport, iniziamo con il calcio. L'Acragas di Pino Rigoli si allena allo stadio di Palma di Montechiaro per preparare il prossimo impegno di campionato in trasferta contro il Bagheria. I bianco-azzurri giocheranno la consueta partitella infrasettimanale a ranghi misti. L'Acragas ha il morale alto dopo le due vittorie consecutive e contro i nerazzurri dell'ex Mimo Bellomo proverà a portare a casa l'ennesimo successo. Già nel pomeriggio di oggi amichevole sul campo di buon pensiere tra Nissa di Serie D ed il campo franco di eccellenza. Sabato prossimo, 22 settembre, alle ore 15.30, nel torneo d'eccellenza, si giocherà l'anticipo tra Parmonvale e Monreale con la direzione di gara affidata a Mario Saia di Palermo. L'anticipo del torneo di promozione è Sciacca Salemi che sarà diretto dall'arbitro Marco Parnello di Palermo. In Serie D il Ribera ha ingaggiato il portiere Alfredo Esposito, classe 93, ex Bastia Umbra d'eccellenza, ed il centrocampista centrale Giuseppe Fortino, classe 95, ex di Cosenza e Rossanese, nel torneo di Serie D. Sempre in chiave mercato, il presidente del Ribera Ezio Ruvolo ha smentito ufficialmente la cessione del portiere Francesco Talluto, ancora fermo per un infortunio muscolare. La Cireale, invece, ha osionerato l'allenatore Massimo Gardano ed ha affidato la panchina al tecnico campano Sassamarra l'anno scorso alla Nissa. La palla a volo, l'Akragas Volley, prossima a disputare il torneo di B2, ha vinto la prima amichevole della stagione dopo circa un mese di preparazione atletica. Le bianco-azzurre si sono imposte a Cefalù contro la locale formazione che merita in B2 con il punteggio di 3-7-1. Il sestetto agrigentino ha giocato un'ottima partita in tutti i fondamentali, mostrando anche una eccellente condizione fisica. Il basket giovanile è iniziato all'attività agonistica dell'ASD Real Basket Agrigento che anche quest'anno organizza corsi di mini-basket per bambini e bambine dai 5 ai 14 anni. Le lezioni si terranno presso la palestra dell'ITC Fodera di Agrigento. Ascoltiamo in proposito l'istruttore Alessandro Bazzan. La Real Basket Agrigento riprende l'attività agonistica. L'istruttore Alessandro Bazzan. Da oggi, tutti i mercoledì e i venerdì, ricominciamo l'attività del mini-basket per tutti i bambini dai 5 ai 13 anni. Ricominciamo una stagione che abbiamo appena lasciato alle spalle che ci ha visto impegnati con un campus estivo la mattina alla scuola Garibaldi e il pomeriggio, anche tutto il mese di luglio, al campetto del villaggio Peruzzo. Da oggi ricominciamo nella palestra Fodera, quindi una stagione invernale, e quindi spero che tutti i bambini possano partecipare a questa attività. Per chi volesse iscriversi, cosa deve fare? Basta venire in palestra al Fodera, entrando dalla parte posteriore della scuola Fodera, tutti i mercoledì e i venerdì, dalle 4 e mezzo in poi. Un appello che voglio fare ai genitori è quello di cercare di spingere, stimolare i bambini a fare un'attività sportiva, qualessa sia la importanza. L'importante è quello di farli muovere, di tenerli attivi, e il meno possibile a casa, davanti alla televisione, davanti ai giochini della Playstation. Quali sono gli obiettivi della Real Basket Agrigento? L'obiettivo che ci siamo prefissati un paio di anni fa è quello di stimolare quanto più possibile i bambini nelle scuole elementari nel svolgere questa attività. La pallacanestro è uno sport che in Italia, in generale, all'agrigento in particolare, sta via via scemando. A differenza di dieci anni fa, c'è stato un calo del 50-60% di partecipanti al mini-basket e c'è una fascia d'età, quella tra i 13 e i 15 anni, dove c'è un 70% dei bambini che lasciano l'attività sportiva per non fare nulla. Noi ci prefiggiamo di portare quanti più possibili i bambini in palestra a giocare, sperando che si divertano pure, perché è la cosa fondamentale per loro. Sarai collaborato da Ivana Micichè, altra bandiera del basket agrigentino. Sì, Ivana è già, questo è il terzo anno che collabora con me, si occupa dei bambini più piccoli, quelli diciamo, di fascia d'età di 5-7 anni, perché per questi bambini una figura femminile, una figura materna, è più stimolante per il bambino. Mentre io e mio figlio Alessio ci occuperemo dei bambini che sono più avanti nell'età, dagli 8 ai 11-12 anni. E devo dire che Ivana, oltre ad essere ancora una giocatrice, perché fino ad ora ancora ha giocato, è un'ottima istruttrice per questa fascia d'età. Non solo basket, ma anche pallavolo, minivolley. Sì, con l'occasione, visto che mia moglie è una vecchia bandiera della pallavolo agrigentina, abbiamo aperto anche un centro di minivolley, sempre nella stessa palestra del Foderà. Tutti i martedì e giovedì, dalle 5 in poi, chi volesse far fare la pallavolo che ad agrigentina in me è visto come uno sport al femminile, dimenticando che forse al maschile abbiamo la squadra tra le più forti del mondo. Chi volesse far fare minivolley può farlo andando dalle 5 del pomeriggio in poi, tutti i martedì e i giovedì in palestra, scrivere, far provare i bambini anche la pallavolo, che anche questa è un'attività che ad agrigentina via via è morta. E quindi da questo punto di vista stimoliamo i genitori a far fare attività sportive. Questa sera, giovedì 20 settembre, su Teleacras sarà in onda una nuova puntata di Punto Fermo dedicata al premio nazionale Unicusano che si è svolto al castello Chiaramonte di Favara con la direzione culturale di Giuseppe Arnone e di Mario Gazziani. È tutto, grazie per averci seguiti e appuntamento al prossimo video giornale. Buon pomeriggio. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.